In mancanza di una netta inversione di rotta, il Molise rischia di scomparire, e non solo a livello istituzionale. È questa la previsione perentoria scritta nell'ultimo rapporto presentato a Roma dall'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, Svimez. La desertificazione umana e produttiva della nostra regione, secondo lo Svimez, è un dato di fatto, stando all'incremento negativo di tutti gli indici economici e produttivi che sono stati registrati nel 2013 rispetto all'anno precedente. Nel Molise il PIL è calato del 3,2% con una quota pro capita al di sotto dei 20.000 euro e con un indice di un quarto inferiore alla media nazionale. È calato il livello demografico, ormai siamo 314.700 residenti e le esportazioni sono crollate del 10%. Nel 2013, inoltre, si sono persi 7.200 posti di lavoro, meno 7,7%, e gli occupati sono passati dai 107.000 circa del 2012 ai 99.500 del 2013. La disoccupazione giovanile sfiora il 50%, mentre il tasso generale è pari al 27,5%. È cresciuto il numero delle ore di cassa integrazione ordinaria e in deroga e, soprattutto, è cresciuto il numero delle famiglie povere che non riescono più a pagare il fitto, le bollette e neanche a nutrirsi decentemente. Rappresentano il 20% del totale, senza considerare che 14 famiglie su 100 guadagnano meno di 12.000 euro l'anno ed il 3,2% vive con meno di 500 euro al mese. Metà dei nuclei è monoreddito e l'8,7% di essi ha tre o più familiari a carico. Siamo di fronte, dunque, a due grandi emergenze. Quella sociale, con il crollo del PIL e di conseguenza dell'occupazione, è quella produttiva, con il rischio di desertificazione industriale ed umana del Molise. I giovani, ma anche chi giovane non lo è più, sono costretti a cercare fortuna all'estero, Irlanda ed Inghilterra prima di tutto. Nel 2013 sono stati ben 4.593 gli occupati residenti nel Molise che hanno scelto, o meglio, sono stati costretti di lavorare al centro-nord e nei paesi stranieri. Il 32% degli emigrati possiede almeno una laurea. Dunque, dal Molise ripartono i bastimenti, oggi sostituiti con treni superveloci ed aerei, per trasportare braccia e cervelli lontano dalla loro terra e dai loro affetti più cari. Un rapporto, quello dello Svimez, che inchioda l'intera classe dirigente e, in particolare, quella politica alle sue pesanti responsabilità. Sono dati non allarmanti ma drammatici, su cui abbiamo l'onere imprescindibile di tendare una inversione di tendenza per evitare una pericolosa deriva sociale, ha commentato l'onorevole Laura Venitelli. Sono dati, aggiungiamo noi, vissuti sulla pelle dai molisani e riportati quotidianamente da un anno ad oggi solo da poche voci libere e da alcuni organi di informazione. Il potere politico prevalente, però, non li ha voluti ascoltare, anzi ha insultato chi ha cercato di informare correttamente i cittadini sulla mancanza di strategia e sulla incapacità del governo guidato da Paolo Frattura a proporre un progetto adeguato a fronteggiare le tante emergenze. Dunque, ancora una volta, ha avuto ragione chi ha raccontato la verità e non chi ha riportato sulla stampa veline patinate per dire che tutto andava bene. Ora i politici nostrani e i loro cantori dovrebbero solo vergognarsi e chiedere scusa ai molisani. Parto nei basti mei, per terra assai lontani.